Vedete che inquadro per terra, eh? Io dico sempre, siccome, dico, certo che fosse il Telereggio, sa, Reggio, c'è la religione di Telereggio, capisci? Ma quindi facciamo il calciatore? Non me lo ricordo. Ah, in Romagna, quando lui era all'inizio, Forlie. No, no, quando sarà, aspetta, quando sarà l'europeo, perché adesso è cambiata la direttrice, scommettiamo che viene la Rai a casa sua? Scommettiamo che l'ha fatto con tutti gli Olimpici? Scommettiamo? Anche con i mondiali, con... No, i mondiali non ci siamo andati, ma lo fanno abitualmente. Dove è arrivato a giocare? Per il momento... No, no, lei, lei, dico. Ah, no, io ho fatto fino alla Serie D, fino dopo l'anno che Bellari è andato in C2... Oh, Fabio. Ehi! Ah, ma andiamo? Eh... Dic- ma andiamo. Ah, non c'è. Diglielo, almeno. Mandagli un messaggio e dica, andiamo. No, beh, a noi ci tocca andare via da te, ma poi cambiiamo il piano e a noi... No, non c'è, ma io ce la vi ha fatto. Ma va, va, va! Ma noi vi puoi***ci! Ma vi spiaci fermato. No, ma, no. Ma un servizio di salute, mamma no. 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 Ma... No, ma... No, ma... Buon rientro Quindi ex giocatore anche voi, ex giocatore anche lei E lui neanche? No, no Qual è lo zio? Lo zio sono tutti e due questi Ma tutti e due ex calzatori? Questi ex calzatori, ma proprio ex E' uno dei miei giocatori preferiti, a parte gli scherzi Non capisco, non ho mai capito cosa sia successo con Mancini Guardi, io ero a Cittadella, a Verona Cittadella Dove si vedeva che era da Champions League C'era anche lei immagino, no? Sì, sì, c'era anch'io Ci ha fatto una partita mostruosa Ha giocato tra l'altro con uno stiramento Però vi voleva essere tutti i cori E ha fatto una, cioè Ha fatto una gran partita Anche perché poi dovevano vincere almeno 2-0 L'ha vinta lui L'ha rovesciata lui Sì, sì Era già da nazionale L'ultimo gol l'ha fatto lui tra l'altro Era già da nazionale quella sera No, adesso non ne vediamo No? Per me sì Ha fatto tutti gli step giusti Sì, sì Ma c'è gente che la chiamano in nazionale C'è con una manciata di partite Tra l'altro lui non è neanche È un 95 ricordo bene Però insomma dai quanti anni Beh quindi grazie al cambio Grazie alle dimissioni di Mancini Andrà l'europeo da titolare Speriamo Speriamo che vada Da titolare o meno speriamo che vada Eh vabbè Ci vediamo, arrivederci Un abbraccio Che lavoro fa? Me lo rivela? Io sono Io sono Eh? Che lavoro fa? Dico Che lavoro faccio io? Sì, sì Sono albergatore Ah che meraviglia Ma come si chiama l'albergo? Fabio Fabio A Bellari di Giamarina Che meraviglia Ah che meraviglia Eh torna Eh Non la riconosco ma mi aiuti La riconosco ma non la riconosco È uno di Elab My Kitchen No? Stiva Ah Stiva Eh vabbè Grazie Grazie